Figlio di Joe, artista gallese e William Sewell, disegnatore australiano, che ha lavorato alla sequenza Lucy in the Sky with Diamonds nel film d'animazione Yellow Submarine, i suoi genitori divorziarono quando aveva 5 anni. Il padre morì quando Rufas aveva 10 anni. Ha un fratello più grande, Casper. Studia presso la Orleans Park School, e in seguito studia recitazione presso il West Thames College Central School of Speech and Drama. Debutta nel 1991 nel film Bella e accessibile con Patsy Kenseth e acquista notorietà in Inghilterra con la serie TV Middlemarch tratta dal romanzo di George Eliot. Nel 1998 grazie al film Dark City acquista notorietà in tutta Europa. In seguito recita in film come Martha D'Ale Gare e Illuminata diretto da John Turturio. Nel 2001 recita nel film Il destino di un cavaliere e negli anni seguenti prende parte a film come The Legend of Zorro, Tristano e Isotta e The Illusionist, l'Illusionista. Nel 2006 interpreta Thomas Clarkson nel film Amazing Grace e in seguito prende parte alla commedia romantica L'amore non va in vacanza. Tra il 2008 e il 2009 partecipa come protagonista alla serie televisiva Poliziesca Eleven Tower accanto a Marley Shelton. La serie è stata cancellata dopo una sola stagione. Nel 2010 è stato uno dei protagonisti della miniserie televisiva I Pilastri della Terra. Tratta dall'omonimo romanzo di Ken Falat, ha impersonato Tom, il mastro costruttore della cattedrale di Kingsbridge. Sempre nello stesso anno ha avuto una piccola parte nel film The Tourist. Dal 2015 è uno dei protagonisti della serie televisiva Amazon L'uomo nell'alto castello, basata sul romanzo La svastica sul sole di Philip K. Dick, nel ruolo dell'overgruppenfurer John Smith. Dal 2016 veste i panni del primo ministro del Regno Unito Lord Melbourne, fidato consigliere della regina Vittoria, nella serie TV della ITV Victoria. Nel 1999 sposa la giornalista di moda australiana Yasmin Abdala da cui divorzi a pochi mesi più tardi. Nel 2002 ha il suo primo figlio, William Douglas Sewell, nato dalla relazione con la produttrice e sceneggiatrice Amy Gardner, che sposa nel 2004. La coppia si separa nel 2006 per poi divorziare. Dal 2006 al 2008 è stato fidanzato con l'attrice Alice Eve Sual ha anche una figlia, Lola, avuta dalla relazione con la modella Amico Mai Nelle versioni in italiano dei suoi film, Rufus Sual è stato doppiato da Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane Iscriviti al Calane